Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A12 ci sono 4 km di coda per lavori tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A1 ci sono 2 km di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante di Valico in direzione Bologna per un veicolo in avaria. Sul raccordo Bettolle e Perugia rallentamenti tra lo svincolo di Cassiglion del Lago e quello di Pietraia in direzione del raccordo Siena-Bettolle. Sulla FIPILI fare attenzione per personale su strada tra Santa Croce e sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione di Livorno. Sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori nel tratto compreso tra lo svincolo di Capalbio e Pescia Romana in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!